Musica Emma, che c'è? Non puoi mangiare niente? Mm-mm, te l'ho detto che non ho fame, poi avete detto che comunque devo venire, eccomi qui! Oh, io ho sempre fame, ma la cena c'è di meglio, no? Emma, per cena si mangia il pane! Emma, cosa vuoi avere sul tuo panino? No mamma, no, non ho fame, vado, va bene così! Wow, 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 Emma, ti sei alzata davvero? Oh, oh, guai! Io avrei una pizza qui, volte volentieri, ma... Oh, Anna, meno male che lei è in vacanza dai nonni, così mangerà qualcosa di buono! Eh, 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 Emma Vogel, per favore, torni subito qui, vogliamo mangiare tutti insieme, torna qui! Oh, sì, cosa succederà quando sarò nella pubertà? Penso che ora si comporti già come un teenager! Oh, che noia, perché devo aspettare qui finché voi non abbiate finito di mangiare? Oh, voglio la pizza, le patatine, gli spaghetti! Oh, sapete cosa vi dico? Ah, non combino niente oggi, però meno qui in cucina, ok? Sistemerò tutto qui e così sarò il migliore bambino, non è, ma vero? Ok, questo era quanto, vado a vedere la tele! Mmm, Martin, ho l'impressione che i bambini facciano quello che vogliono! Oh, ok, finalmente è finita la cena! Oh, Emma, 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 c'è il momento giusto, inizia nel cartone, vieni! Allora, io pulisco il sistema qui tutto, penso che abbiamo finito e Emma forse non vuole mangiare niente! Bene, allora guardiamo cosa fa Julian! Oh, Julian, allora... Emma, che cosa stai facendo, per favore? Prima niente, c'è l'ora guardare la tele e non esiste! Ciao papà, sì, è la sera preferita di me, Julian! No, Emma, no, 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 dopo come ti sei comportata? Scortalo, però oggi niente tele! Oh, papà, sei cattivo, cattivo! Sì, 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 sei peggio della mamma, non ti odio! Eh, ma, eh! Oh, non guardare la tele, non è mica così grave! Oh, Emma, sai cosa ti dico? Diventa adulta! Diventare adulta? Mai! Io dovrei diventare adulta? Non ci penso neanche! Prima non volevo cenare e poi non potevo guardare la tele! Oh, e io non voglio diventare adulta, se no non potrà più giocare! Ma cos'è successo? Eh, Claudia, non lo so, la nostra figlia è... Eh, ma, è molto serena a volte, eh! Oggi ha detto che mi odia, e perché sono un padre così cattivo? Ai ai ai! Eh, gli ha evitato di guardare la tele! Quando sarà adulta non potrà più dormire nel letto della principessa, sarà una catastrofe! Non voglio diventare adulta! Cosa? È da un sacco che non la vedo! Eh, ma, vieni qui, vieni! Ho, ho, ho! Da quanto tempo! Ah, cosa c'è, Julian? Cosa vuoi? Guarda, guarda, te le riconosci! Ding Dongs! Quanto tempo è passato? Vent'anni, l'ultima volta che l'ho sentito? Wow, prima non mi piaceva, adesso nemmeno, però wow! Oh, sì! Ding Dongs! Cool! Che bello che guardiamo insieme la tele! Cosa? Guardare la tele insieme? No, 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 non più! Volevo solo guardarti questo e ora fuori! Ai, Julian, sei così cattivo! Ah, 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 sì, sì, si, come dire che guardo la tele con un baby? Vado a vedere cosa fanno a mamma papà! Sì, ehi! Oh, ma per favore non urlare così, non è per bambini piccoli, no, 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 non puoi guardarlo! Oh, guardo, accendo qui un programma per bambini! Mamma papà, ho 22 anni, posso guardarlo? 22 anni già, oh, ma rimani sempre il mio baby, il mio piccolo baby Oh, veramente, basta, no, non so, non bebe, mamma, lasciami in pace, papà non lo guarda, voglio l'altro Oh, ma ho acceso apposto i cartoni per te, perché non li vuoi vedere? Oh, Hanno, tesoro mio, ti ho portato un po' di fiori, ma tu sei molto, molto più bella di questi fiori Tu sei semplicemente la ragazza più bella di tutta Playmobil City, ma te lo dico, penso, dalle scuole elementari Ah, che schifosa, Anna e Dave? Oh, certo, di nuovo, come un bambino piccolo, sei un bambino piccolo, stai giocando, vero? Cosa? No, ho guardato cosa fa, Anna, io non volevo nemmeno vederlo Eh, ma sai cosa volevo dirti? Occupati di dare le tue di cose, io vado, ciao No, Julian, ehi, voglio venire anch'io Julian, le chiavi della Porsche sono sul tavolo in cucino Se lo trovate, c'è benzina, vero? Ok, Julian, mi puoi portare con te, dai, per favore Oh, 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 Emma, ascolta, non sai quanto è imbarzante Può andare in giro con un bebè, non ci penso neanche Oh, ma non è giusto, perché? Quando potrò fare la patente? Eh, ma magari quando sarai un po' più grande E magari arrivi al pedale Ma ho qualcosa per te, guarda, una macchina Brum, 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 la mia macchina ha giocattolo Papà, vuoi prendermi in giro? A 22 anni non gioco più con quelle cose Voglio un vero patente Devo andare in la macchina Cosa? Non avere la patente a guidare la macchina? Magari incominciamo a mandare i panini, ok? Gli ho preparati per te Ah, sì, che profumo E allora, in cucina, seguimi Ma, mamma, però, poi faccio io Eh, perché sono grande abbastanza, non sono più un bebè E allora, in cucina E allora, in cucina